e bello ragazzi e ragazze bentornati a questo nuovissimo video io sono essenziale e vi do il benvenuto su un nuovissimo video oggi raga da questo vi fa 20 stranamente comunque oggi mi sono ritirato i premi della ripassata e della vl che è andata male bronzo 3 con 0 vittoria che sono troppo forte comunque mi sono preso donnarumma e paolo di balla paolo di balla ci ha fatto tante partite ho fatto 0 gol e un assist è un giocatore che è forte ma con il piede destro fa davvero vomitare o ragazzi fa davvero vomitare andiamo a provare di venire nei commenti poi se vi piace questa squadra ma assai problema è sempre alessandro florenzi che è buono è buono ma non troppo non troppo comunque raga vi scuso intanto se sentirete la voce del commentatore collego non so come rimediare però mi scuso già da adesso per questa cosa possiamo iniziare con il video però prima vuoi vedere una cosa vabbè ma let's go let's go let's go raga una buona squad una buona squad ovviamente devo migliorare alessandro florenzi dopo andremo a vedere un po' chi potrei mettere forse in un'altra serie di un altro campionato comunque abbiamo neto fernandez non so chi che è il naglio dal commentatore non guarda cerchiamo di vincerlo eccolo qua incomincio bene ragazzi che promette gol e spettacolo meravigliate Oddio Adesso è una mia Cioè sono stupido Cioè vedo male Oh boh Sto qua mi fa la cura Lo so c'è raga Che vince lui lo so Si vabbè però eh C'è anch'io La prega provo un po' A vedere nella rosa Se mi ricordo Ehm Un testino destro migliore Provo a vedere tipo se meto Se facendo d'intesa Occhio al pallone per il possibile vantaggio Grande parata Che riflesso Chi c'è raga c'è Un sano Può portarsi in vantaggio Intervento decisivo Che salva la problema Eccolo qui Eccolo qui Irving Irving La zona va lì Come giocatore Come giocatore A parte David Neres Ma non sta giocando Cioè sta giocando ma Ma non ha presa la palla E facciamo i passaggi di M Cioè cosa vuoi dire? No raga Oh vai Ma che Ma sta giocando malissimo Ma che torre in possesso Dai raga Ah Mamma mia Non è possibile Stai giocando malissimo Non so perchè ma esci da solo Il portiere Cioè Qualcuno me lo deve spiegare David Neres No raga Mi sto incazzando però Sani Vidal Si ma però Laga cosita Cioè No raga Passaggi tipo 1 a 0 Che dubbo nel portiere Dai raga Dai raga Ho cercato in mezzo Non corre rischi Scegli i pugni Potenzione favorevole Cross corto sul primo pal Dotta rumba Attenzione non è finita Ma rigol Ma non è possibile Morales Il tuffo Cari dei gol Dai non mi devo incazzare Occhio a tiro dalla bandierina Azione che non soffisce A un effetto A spazio con la corsia Il tocco dentro Spazza via Manolas Spazza via Manolas No 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 Rodrigo Buono e cross Attenzione di passore Gargantana Mendi Buona lettura dell'azione Ha intercettato bene il passaggio Ha spazio per andare Sanse in area Il giorgio di volta qui attenzione E il portiere si arriva Sul colpo di testa Mamma mia Lo rischiò Bravo che vada Bravo in testa Nuova azzare a spazio Taglia centralmente Mertens Mertens Chris Mertens Eccolo che colpisce Aggiunge un'altra perla Alla sua collezione E c'è il gol di Mertens Ok Ok Che giocatore Non sbaglia una Pazzesco Ed ecco dunque Arrivato il primo modo dell'incontro Una zero Chi ce la prega eh Finita Passala Guardala Sto giocando un albero C'è C'è questo è un gol proprio di culo Perché sta dominando lui Boh non tira Cioè non tira Fink E' un gol di assistente E' fuori gioc Co I nghiocatori protestano Non hanno avuto dubbi Bene qui il difensore Chiuco la linea di passaggio Nanna ciamma Però non sa perché non ho tirato E' la passata Noo Interrompendo Bene l'azione, intercettato il lancio. Intercetta bene il passaggio e non era facile. Occhio a Mertens. Brutto passaggio e pallone regalato. C'è campo per la ripartenza. Che culo, che culo. Mamma mia che fortuna. Bravo. Solo culo, solo culo adesso sto avendo solo culo. Vai a vedere le prestazioni. Tiri 2-13, tiri in porta 1-10. C'è raga ma se no non sto, sta giocando tutto lui. Una volta che FIFA c'era con gli altri e non con me. Adesso addio. Ma sicuro appena prima azione del secondo tempo 1-1. Me lo sento, non so perché ma me lo sento raga. Me lo sento. Al calcio di inizio, lui vuoi? Sì sicuro. È sicuro. Let's go. Ecco il calcio di inizio del secondo tempo. Bravi qui a bloccare tutto. Alan. David Merez. Alan. Occhio a Mertes. Ma. Brutto passaggio, recupero facile. Ma. Ma che passaggio? Scusate, passaggio a lui. Rodrigo. Buona lettura dell'azione. Intercettiamo bene il passaggio. Mertes. Occhio alla ripartenza. Vantaggio che comincia di farsi importante. Puoi fare un'altra ricordata dagli avversari. E ancora presto però per cantare vittoria. E si fa dura per ora. Calma. 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 Non è finita. È appena iniziata raga. È appena iniziata. È appena iniziata. Non è detto niente. Se magari si muove. C'è. Buona lettura del difensore. Ma lo scatenato. Lo scatenato. Bravo David. Bravo David. Ancora David. Uffi. Uffi. Salti casola. Si avvicina all'area. Palla che termina oltre la via di fuori. Merter sembra particolarmente ispirato a GK. Questa è una pezzina. Guarda. Avete visto? È il rigore. Ho fatto una scivolata contro quello lì. Che bel gioco. Che culo. Ho tirato di sinistro credo. Che culo. David. Ne ha rest. Sì no raga. È la calce di rigole. Cioè è brutto. Cioè. Mi voglio scrivere solo. Non so spatti. Povero. Regà. Che culo. Solo culo spacciato. Perché. Cioè. L'intervento. Di screener. Era rigore. Regà. Ah no. Abandonato. Ok. L'intervento di screener. Era calcio di rigore. Nettissimo anche. Nettissimo. Allora. Adesso. Devo vedere. Qua. Una cucina. Qua. Dovevo vedere un po'. Una bellissima. Nel Sansemedo. Vediamo un po'. Quanto fa di inteso. Perché. Ma era due. No. Va beh. Scrinial. Si è fatto qui il caledù. Non sarebbe. Che c'è allora. Andiamo a testare. Che c'è. Dai. Mi servirebbero. Servirebbero. Zanetti. Tipo. Zanetti. Ho provato proprio qualcuno. Eh. Quadrato. Cavolo. Adesso vedi che c'è ancora. Eh. Regà. Chi. Qua. Dovevo vedere. Eh. Adesso vedi che c'è ancora. Quadrato. No. È impossibile. Oh. Regà. No. Infatti. No. In effetti. Allora. Dovevo vedere una cosa. Perché. Allora. Se parli ad un'alzanza in edo. Campionato italiano. Campionato italiano. Serie A. Eh. Inter. Agutin. Ma io voglio il difensore centrale. Andiamo. C'è. Goudin. C'è. C'è. Debrai. Debrai. E se metto anche Debrai. Se metto qua. Debrai. E qua. Se metto. In teoria. Eh. Infatti. Eh. Infatti. Perché fanno tutti i dieci di inteso. Mamma mia. Non fa. Anche. Non c'è di inteso. Farebbe. Meno. Due. Scusate. Ma. Un po' tanto. Mi sembra un po' tanto. Meno. Meno. Scusate. In tercera. Che c'è? Eh. Mamma mia. Non c'è nessuno. Ragazzi. Ma chi? Ti sai? Amore. Dopo questo. Danilo. Ragazzi. Non c'è davvero nessuno. A parte Florenzi. Non c'è nessuno. Dovrò cambiare squadra. Dovrò cambiare squadra. Allora. Spina. Vabbè. Ecco. Argentino. what? che ho appena visto? Mauro Iguagliano, cosa dico? raga, non so chi cambiarlo al massimo provate a scrivermi ai commenti che facendo d'intesa serve o un messicano o un greco un argentino o brasiliano o forse anche addirittura un francese o una cazzo è? zlomè, dalla slovakia o greco cioè ditemelo perchè è una serie A sia solo Florenzi perchè le altre non è SBC comunque raga, per questo video è tutto io spero che questo video sia piaciuto se vi lasciate un bel like, iscrivetevi al canone perchè non l'ho ancora fatto condividete questo video e il mio canale di youtube commentate e lasciate un like commentate se questo video vi è piaciuto e commentate chi mette a posto di flora e la segalex0i è tutto ci vediamo, alla prossima, ciao!